Salve, ho letto il vostro articolo su Millionaire. Ecco una classica scena che accade spesso in ufficio oppure al telefono. Sentiamo cosa c'ha da dire. Vorrei aprire un bel e-commerce con tanti prodotti. Vorrei vendere tanto. Vorrei avere magari qualche video che spiega i prodotti, qualche risorsa scaricabile. Però voglio uscire su internet, su Google, su Facebook. Però attenzione, non c'è budget, non ci sanno soldi. Che possiamo fare? E che possiamo fare? E' come se andassi in una concessionaria e dicessi Bella quest'auto, fantastica questa BMW, mi piacerebbe acquistarla. Però una cosa, qua non c'è budget, non ci sono soldi. Che possiamo fare? E che possiamo fare? O scompaio io o scomparrei lui. Meglio che scompaio io, va? Allora, che possiamo... Ma dov'è? Dov'è finito? Ma cosa ho detto? Ma su internet non era tutto gratis.